Grazie a tutti Una specie, una cosa che permetterà di vincere contro Delulu Delulu questa volta di freddo degli anni 90 vedrà le Inersenshi Affronterà le Inersenshi perché negli anni 90 affrontava solo Serumun, Serocibimun, Tuxedokame, Max, Milord come lo volete chiamare e Seropluto Che cosa comparirà? Comparirà il fatto che Setsuna si risveglia come guerriera Saylo E' stata molto bella la scena Mi sembrava di rivedere e di assistere quando i loro tre, Rook e Michuri, avvertono questa nuova presenza Anche Pamuro Quindi hanno molto Come posso dire Hanno sentito che è un'alleata Quindi si sentono Tutte e tre Questa scena del risveglio delle tre guerriere del sistema solare esterno Mi è sembrato di rivedere i primi episodi anni 90 Del Quintarco Dove loro diventano super senshi Quando Taro Mi sembrava una cosa simile Però giustamente mi è piaciuto anche perché In quest'acto E' stato valorizzato un po' Loro tre Stanno valorizzando loro tre Perché nella terza serie degli anni 90 Nella quinta serie degli anni 90 Non venivano considerate Tanto Quindi in Crystal Stanno proprio Come nel Manca Si sta avendo una specie di Di considerazione delle Outer Sanshi E questo è il mio secondo maia gioia Di questa recensione Il risveglio delle Outer Sanshi Con i loro simboli Poi una cosa più strana che mi ha fatto vedere Usagi Cibiusa e le altre inner Che quando evocano Evocheranno la loro trasformazione Saranno come le Outer Sanshi Il simbolino qui Mezzo e nude Non so perché E' stato fatto qui Questa cosa Come ho detto il mio seno Momenagio è il risveglio delle Outer Sanshi E avendo io Essendo molto legato a loro Sono molto contento Un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere E' quella Anche Spiccicale l'aveva detto Ma anche a me mi piace Perché appunto io sono un fan Un'altra cosa che mi ha fatto Se lo poter La riconsidero Più adesso Come nel manga che mi viene in 90 Quel Dead Scream Quel Dead Scream Che compare all'improvviso E risolve tutta la situazione Perché E' la prima volta E' una delle cinque Witches Si Trasforma in Demone E quindi Diamond Demone saremo E poi abbiamo visto Vedrete la prima volta Che il professor Tomoe Va a cospetto di Del Di una cosa Insieme a Kaiolite Kaori Kaiolite Magus Kaiolite Davanti a Qualcosa C'è un essere superiore Che comanda Kaiolite E Tomoe Quindi vedremo Tomoe Per la prima volta A cospetto suo Cioè Voi Io l'ho visto Chi non ha visto Non posso dire spoiler E qui C'è qualcosa Che non ha Per la prima volta Queste Quanto L'essere superiore Dice a loro due Racconta Conquistare Il mondo L'universo La terra Come la loro Seconda patria C'è Qua C'è nello spazio Tre Tre luci Tre luci Di tre colori Diversi Però questa volta Comparirà una quarta luce E io ho capito Già Chi potrebbe essere Ha una Che sembra Un lati qua Un lati qua Non mi ricordo Ha una di due lati Però la luce Di mezzo Avrà una specie Di bagliore Che con C'è nello schermo Perché Significa Che Sta Una di queste Quattro luci In realtà Sono tre Però non so Perché è stata messa Una quarta luce Quella quarta luce Lì io so Chi è Però non posso dire Non si sa Questa luce di mezzo Avvalierà lo schermo Perché Come se L'essere superiore Kaiolite E Tomoe Avversano Questa Rinascita Questa Nascita di qualcosa Il dance scream Mi è piaciuto Molto viola Viola Perché io sono amante Del colore viola lilla Del colore di Sello Pluto Anche se lei ha Ha Il vestito nero E Ebbene Deluru È morta È morta Morta Morirà Boh Non si sa Non lo so Perché questo lo scoprirete voi Morirà Penso di sì Penso Io dire Io so solo che Il dance scream Colpirà lei Non so se posso dire Questa Però Vi posso dire solo che Muore o non muore Questo lo scoprirete voi Dopo che Lei ha usato C'è una cosa che Una persona Che riconoscerà Sello Pluto Bene Io ho finito E già è tanto Che ho parlato L'act 31 Finisce qui L'act 32 Che Secondo Pagine Sulle pagine Facebook Ci sarebbe La trasformazione Di seno Pluto Quindi Nell'act 32 Vedremo Questa famosa Trasformazione Perché io sto aspettando Questa trasformazione Chiedo Chiedo scusa La macchina digitale Si è scaricata Ora sto usando Il famoso cellulare Che non funziona Internet Per registrare E Stavo dicendo Il fatto Della meteorite La meteorite Che Una persona Riconoscerà Bene Nell'act 32 Spero di vedere Questa trasformazione Perché Voglio vedere Questo sfondo Del pianeta E Come Abbiamo detto Ripetuto Anche Spiccicano L'aveva detto Ne manca Le eutasenshi Non hanno L'iperod Quindi È inutile Dire sempre La trasformazione Quest'altro Questa volta Le trasformazioni Anche loro Il simbolino Che appare Appare All'improvviso E poi Compare La posa finale Con il pianeta Come le colleghe Inersenshi Non me l'aspettavo Che Naoko Faceva questa cosa Simile a loro Perché Negli anni 90 Avete potuto vedere Non avevano I simboli Dietro Bene Io Chiudo La parte Della recensione Dell'X31 Io Noi ci vediamo Con un altro video Che non so adesso Se Sarà Lo Spacchettamento Del regalo Del mio amico Youtubers Degli stickers Di Sailor Moon O di altro Ora non so Se questo secondo video Cosa sarà Ci vediamo Ciao ragazzi Io Le 俗 Di Lo Io E E Mi 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 I Grazie a tutti.